Gli ECS lavoratori, le SU e delle PU del comune di Gioio Saionica hanno deciso di indire uno sciopero per la giornata di venerdì 23 novembre per protestare contro la scelta dell'amministrazione comunale guidata dal sindaco Salvatore Fuda di procedere all'assunzione di lavoratori esterni anziché stabilizzare quelli già presenti nella pianta organica. La questione era già stata sollevata alla fine del mese di ottobre quando i segretari delle tre principali sicle sindacali avevano avuto un primo incontro con l'amministrazione comunale dalla quale erano sorti le prime perplessità sul futuro dei lavoratori precari. Nel comunicato stampa, diffuso dalle organizzazioni sindacali, CGL e Cisleguille, si spiegano i motivi che hanno portato a questa decisione. Nessuna previsione di assunzione per l'anno 2018 per i lavoratori a tempo determinato, nessuna riserva di posto ai lavoratori a tempo determinato per come previsto dalla normativa vigente abbiamo richiesto la revoca o la modifica della delibera del piano triennale del fa bisogno del personale e la revoca dei bandi di assunzione dall'esterno in attesa di sapere l'esito delle nostre richieste. Abbiamo deciso di proclamare una prima giornata di sciopero dei lavoratori a tempo determinato, ex LSU e le più, nel giorno 23 novembre per l'intera giornata lavorativa con la previsione di un settenne di protesta davanti al palazzo municipale di Gioiosa Ionica. Nel caso di mancanza di risposte che tutelano i diritti dei lavoratori, conclude la nota della triplice sindacale, lo sciopero continuerà nelle forme e nei modi dovuti nel rispetto della normativa vigente.